A me è il compito di rappresentare l'Ordine degli Architetti della Valle d'Aosta. Vorrei esordire dicendo che l'Ordine da anni persegue l'obiettivo della valorizzazione e della promozione dell'architettura moderna e contemporanea attraverso un forte collegamento con la Fondazione Courmayeur. Siamo stati promotori di moltissimi eventi formativi che hanno sviluppato un nuovo modo di porci di fronte all'architettura moderna. In questo contesto abbiamo l'Ordine di Aosta, ce l'ha ricordato in esordio Alberto Winterle, è stato il fondatore dell'Associazione Architetti Ercolpino e quindi è con questo spirito che l'Ordine si è messo in collegamento, in contatto attraverso gli altri collegi e ordini professionali con il CELVA per cercare insieme di porre delle basi per la revisione normativa dell'attività di progettazione e di architettura nel nostro territorio in Valle d'Aosta. Io ho dato un taglio alla mia relazione prevalentemente culturale se così posso dire, ho cercato di mettere insieme quali sono gli stimoli, le sensazioni, le suggestioni che abbiamo dal nostro paesaggio, da quello che quotidianamente andando in cantiere che io vedo pure aprendo la finestra di casa mia e così vorrei riproporvelo e progressivamente fare un'analisi di che cosa è lo sviluppo dell'architettura in questa nostra regione. Questa fotografia che vedete è stata ripresa da un cantiere di Sarre e mi sembra significativa del paesaggio costruito, talvolta disordinato purtroppo e questa è una delle problematiche, delle criticità maggiori che abbiamo sul nostro territorio, cioè una grande episodicità di interventi, una scarsità di integrazione sia urbanistica che paesaggistica. Ho scritto una cosa che se volete non possiamo anche evitare di leggere, comunque sono convinto che la montagna sia un ambiente fragile, molto complesso, fragile sotto il profilo evidentemente soprattutto idrogeologico, ma estremamente complesso da gestire e soprattutto da progettare. Avanti per favore. Ecco, poi ho messo una serie di considerazioni che mi permettono, ho trovato questa frase estremamente interessante, questo pensiero di Rem Kolas, che è l'architetto che di recente ha inaugurato il fondaco dei tedeschi a Venezia, un'opera straordinaria, ma tra le tante opere che ha realizzato ce n'è una al Furcapassi in Svizzera, dove nasce il Rodano, che qui non ho messo, ma che mi ha permesso così di collegare il suo operato, il suo pensiero, all'architettura alpina. E allora mi piace molto quello che dice all'inizio, cioè l'architettura è un'amalgama di antichi saperi e pratiche contemporanee. E' molto complesso, no? Cioè, è molto complesso da riuscire a capire il fatto di come sia possibile attraverso l'architettura, che ci è stata illustrata in svariati modi, soprattutto da Clodin, capire quali sono gli elementi che effettivamente degli antichi saperi possiamo trasferire al futuro e capire quali sono gli elementi della contemporaneità, soprattutto quelli legati agli aspetti, possiamo dire, tecnologici e del benessere individuale che dovremmo poter avere all'interno delle nostre strutture, delle nostre strutture architettoniche. Mi piace anche dire quest'altra cosa, che spesso confondiamo architettura con edilizia. L'edilizia è la somma di tutte le componenti che generano l'architettura. Quindi mi piacerebbe molto che in futuro, anche nelle norme, questo concetto potesse essere compreso. L'architettura in realtà è somma di complementi e di edilizia. La frase che ho messo in eretto in fondo, l'architettura ha una connotazione ben più complessa di un semplice fatto edilizio, la sua determinazione viene per l'esercizio paziente, meditato di discipline diverse, in equilibrio talvolta instabile tra tecnica e arte. Cioè è vero che l'architettura è una delle pratiche dell'uomo che si avvicina, che va molto vicino all'arte. Le altre frasi ve le troverete. Avanti, grazie. Ecco, torno all'immagine che vi ho fatto vedere prima, la confronto con un'altra immagine che ho ripreso dalla passerella che sta sopra a Presse Didier, dove con questa immagine volevo semplicemente dire questo, che l'architettura in montagna, qualcuno più importante di me l'ha già detto a più riprese, ha un quinto prospetto, che è la copertura. Cioè da tutti i punti di vista, diciamo salendo in quota, è possibile vedere le coperture, quindi sono assolutamente determinanti nella tessitura del paesaggio e nella sua integrazione. Avanti. Ecco, poi la nostra regione è fatta, queste sono immagini prese davvero da cantieri, mentre vado in cantiere talvolta ho sempre la macchina fotografica al collo, e ci confrontiamo con questi scenari, talvolta con elementi che, come vedete, muri in pietra, cascine che ospitano ovviamente animali, spesso edifici comunque non completamente integrati, semplicemente giustapposti e collocati sul territorio. L'immagine che vedete, dove si vede molto bene l'agrivola, quella in alto, è ripresa, anche questa da casa mia, tirata molto vicino ovviamente, quindi è una fotografia, ma è la danderain, quella sul fondo, sotto vedete l'agrivola, e guardavo, vi volevo far osservare come le coperture così spesso sono disordinate, come gli elementi tecnologici, le antenne in questo caso, non hanno nessun tipo di rapporto con il paesaggio, non si integrano e costituiscono un elemento di mancato collegamento. Questo penso che sia un po' nell'immaginario comune, il nostro paesaggio è fatto anche di queste cose, Cemenol in Val di Grasonegres, nel Shanijan, sulla piana di Cemenol è possibile vedere questo villaggio che sembra realmente nato dalla montagna, dal promontorio sul quale si trova. Ecco, poi molto spesso la tradizione costruttiva, prima non è stato detto, ma ci ha portato anche queste ricchezze, queste visioni, nella città di Aosta è possibile osservare il campanile del convento delle Suele di San Giuseppe passando a fianco delle mura romane in via Guidorei, dalla sal ho ripreso quell'immagine del campanile stagliato sui boschi, e questa è sempre di nuovo la casa mia, la Gignot, vedete in fondo il Gran Comellora, mi dico questo, dovremmo essere capaci di fare in modo che questi scenari, questi paesaggi entrassero all'interno dell'architettura, all'interno del nostro pensiero, del nostro progetto. Prego. Ancora delle immagini che ci aiutano, spero ci aiutino a capire quali sono le riflessioni che vi voglio portare. in alto è la tronalla di Oias e sotto la torre di Schaltelar. Ho usato queste due immagini perché non ci sono solo i castelli in Valle d'Aosta, ma ci sono anche caseforti, torri che costellano il nostro territorio di elementi visibili e spesso lo caratterizzano in modo veramente inequivocabile e purtroppo dal mio punto di vista non sufficientemente valorizzato e integrato. Prego. E qui vi lancio una provocazione, questa l'ho fatta in particolare per Franco Manes, che è casa sua, diciamo così, a due, è la cappella di Schaltelar, e poi con Photoshop ho cancellato la cappella. e la domanda che vi lascio è questa, c'è un paesaggio così interessante, così veramente pregnante, tra l'altro quella cappella sorge ai margini praticamente di un pendio estremamente scosceso e a sinistra c'è un bosco di latifoglia, quindi è stata insediata in un luogo, possiamo dire, ai margini della parte utilizzabile a fini agricoli. e quindi questo ci dovrebbe insegnare anche come il paesaggio è nato anche dallo sfruttamento del territorio in modo intelligente, in modo proporzionato alle esigenze dei nostri contadini, dei nostri vecchi. Qua una citazione, questa invece per Claudin, che questa è una struttura che sempre nel giro dei cantieri ogni tanto mi capita di vedere, di poter osservare, è una vecchia stalla a Saint-Bartelemy, sulla strada che sale al nuovo rifugio, la commento dicendo di quale semplicità e di quali elementi però di ricchezza è fatta, è abbastanza raro trovare in Valle d'Aosta edifici costruiti in questo modo, con corsi orizzontali piuttosto intensi di legno di larice, e poi se guardate per esempio l'architrave, l'immagine in basso a sinistra, l'architrave che sostiene il colmo di fatto sembra diventata una pietra, per il colore che ha. Allora sono stimoli anche questi che nel progetto spesso possono venire in aiuto, soprattutto quando si deve intervenire. E comincio a lanciare un altro messaggio che è questo. Cosa sarebbe anche questo luogo senza questo edificio? È opportuno prendere in considerazione il fatto di valorizzarlo e di conservarlo? Ha degli elementi architettonici dal mio punto di vista estremamente interessanti e la risposta la lascio a voi. Prego. Passo da San Bartolomé a Cervinia, ma perché voglio fare un salto verso l'architettura moderna e contemporanea, che ovviamente è quella che adesso poi ci qualificherà le riflessioni successive. Questo edificio è citato in moltissime riviste del passato, sui libri, è un edificio di Franco Albini che conoscerete sicuramente al Broil, dove è possibile individuare caratteristiche dell'architettura tradizionale della nostra regione, quindi questi pilastri tondi, prima li abbiamo visti con Clodin, non si vede in particolare ma i tradizionali funghi che distanziano la struttura del Rascar, il basamento della struttura del Rascar, qui sono stati completamente reinterpretati e rivisti alla luce in chiave moderna. Insomma, avanti. Direte c'entra poco quello di prima, ma un passo urbano io lo devo cominciare a fare, perché non so se a tutti è capitato di poter sollevare la testa in Piazza Cianù, l'ingresso di via Xavier de Mestre, osservare questo edificio che è un po' al limite tra l'architettura moderna e l'architettura dell'Ottocento. È un edificio Liberty, Casa Frassi, conosciuta con questo nome, e credo che anche questi elementi che sono più di carattere urbano, ma che caratterizzano fortemente, connotano fortemente la nostra città, la nostra regione, siano da osservare, da tenere in considerazione. Il condominio di Viale Contecrotia d'Aosta di Carlo Mollino, 1960-58-60, è un elemento di grande interesse per la nostra... così vi conduco al fatto appunto che l'architettura moderna si è insediata in Valle d'Aosta, ha delle connotazioni di estremo interesse, alcuni edifici come questo sono sicuramente meritevoli di conservazione e di valorizzazione. Prego. Penso che conosciate anche questo, di Gio Ponti, in avvenuti con sede con me, forse l'edificio è quasi più interessante sul lato meno nobile, quello che si vede in pratica dal piazzale degli edifici oggi non utilizzati di Deval. Ha delle caratteristiche di estremo interesse, anche estremamente innovative per il periodo in cui è stato realizzato. Fortunatamente questo è uno degli edifici che è stato classificato come edificio documento, e quindi ne è possibile e necessaria la conservazione. Prego. Ecco, qui è una provocazione se volete, però ci tengo a dire anche questo, la Fondazione Courmayeur ricevette attraverso la soprintendenza lo scorso anno, o forse nel 2015, l'incarico diretto, scusate, il MIBAT, dette, mandato, in questo caso alla soprintendenza, di fare uno studio articolato sull'architettura del secondo novecento nella nostra regione. Allora qui ho messo due esempi, il primo che penso conosciate, è l'edificio dell'ex latteria, è ancora lì, nelle condizioni in cui le vedete, è una fotografia che ho fatto nella primavera di quest'anno, e è ancora lì a raccontarci una storia importante, un periodo importante della città di Aosta, ma nessuno ancora ha fatto nulla per valutare se sia, come ho scritto, necessaria la conservazione e valorizzazione. Cosa che invece purtroppo non è più possibile dire per l'Hotel des Alpes, un edificio anche questo degli anni, i fini anni cinquanta, realizzato da un'importante società petrolifera, era un edificio già allora collegato con la stazione sciistica di Valvenì, un edificio che trovo avesse, avesse purtroppo, degli elementi architezzonici di estremo interesse per il suo collegamento con i pendii che vedete alle sue spalle, la copertura metallica che prende un colore simile alle montagne, gli elementi verticali che raccontano, dal mio punto di vista, la tessitura dei boschi che sono nella parte retrostante e quel cristallo che racconta un pezzo di ghiacciaio che è visibile spostandosi un pochino più verso est. Questo è un altro dei grossi problemi aperti, non è la nostra regione, cioè quello di capire quale architettura contemporanea, quale architettura moderna e contemporanea è realmente alla dignità di essere conservata ed essere promossa ai nostri figli. Ecco, questa è una delle frasi, poi passerò a dire l'ultima cosa relativamente all'architettura contemporanea. Abbiamo avviato una profonda riflessione con Celva, anche con Jean Barocco, per capire insieme, e questa è la prospettiva che vorremmo continuare a perseguire, capire quali sono gli strumenti che potremmo avere a disposizione per fare in modo che l'architettura diventi realmente un patrimonio importante di tutti noi e attraverso il cambiamento delle norme, le modifiche, quindi nuovi contributi che potremmo portare tutti insieme, sia possibile portare all'attenzione delle norme il progetto e non il progetto all'attenzione delle norme. Cioè, questa, mi aveva preceduto Franco Manessi nel suo esordio, è l'elemento centrale di tutto il nostro tema. Cioè, lo ripeto, capire come il progetto debba dettare le norme all'interno dei piani regolatori, probabilmente anche all'interno del PTP e così via in tutti gli altri documenti normativi. Prego. Ecco, poi mi sono permesso di citare alcuni colleghi di cui apprezzo enormemente il lavoro e che penso possano cominciare ad essere dei riferimenti. Forse una strada l'abbiamo tracciata, è stata tracciata, qualche cambiamento effettivamente in atto. Questo è un edificio del nostro collega Mazza che stamattina forse ho anche visto e a Courmayeur è la trasformazione di un edificio esistente. Non voglio dirvi come fosse prima, non mi interessa, voglio semplicemente farvi capire le riflessioni che ho condotto sul suo inserimento paesistico. Mi sembra francamente che un edificio moderno, attuale, contemporaneo come questo, grazie alla scelta dei materiali e anche al colore, alla tessitura della pietra utilizzata, abbia una configurazione direi più che accettabile all'interno del territorio e si inserisca in un ambiente, tra l'altro naturale, con pendip, piuttosto ripidi, che salgono rapidamente verso le alture del Monte Bianco, abbia la caratteristica di poter essere uno dei elementi a cui fare riferimento. Prego. Ecco, così come la tecnologia, lo sviluppo di nuove tecniche per l'approvvigionamento termico e anche elettrico, ci possono condurre e i commenti li lascio a voi, ovviamente, se volete pensate voi, però credo che anche questa strada sia da percorrere, bisogna capire come questo edificio probabilmente collocato così al margine di un centro abitato, ovviamente si staglia, questo è Saint-Nicolas, la parte alta di Saint-Nicolas, dove questo studio, Studio Albori, ha realizzato questo, tra l'altro in collaborazione con uno studio della nostra regione, hanno realizzato questa casa solare completamente, praticamente una casa attiva, non è neanche più passiva, cioè produce più energia di quanta ne debba consumare. Prego. Ecco, infine queste ultime tre immagini, una dell'architetto Rosset è una villa che ho conosciuto e che conosco e sono andato più volte a vedere a Sar, dove io trovo ci sia un'interpretazione veramente interessante in chiave attuale e contemporanea dei materiali antichi abbinati appunto anche a una tessitura della pietra di grande interesse e qualità e abbinata ad elementi della modernità. Lo stesso vale per gli edifici di Edicreta che non so più se esertita dalla professione di architetto ma non è importante è importante segnalare il fatto che questi edifici soprattutto quello di sinistra di Latuil ha una sera solare di fatto è un edificio a doppia pelle che permette un accumulo solare particolarmente elevato e che dal mio punto di vista ha un inserimento estremamente interessante forse questa fotografia non gli rende così merito le ho prese dai siti dei rispettivi progettisti queste immagini quindi non sono immagini mie e possiamo concludere con l'ultima immagine dove ho segnato quali sono le prospettive perché mi è stato detto dobbiamo parlare della diagnosi del contesto diagnosi significa dopo un'analisi approfondita aver individuato quali sono le cure da apportare allora la diagnosi mi sembra che sia stata fatta aspettiamo ovviamente un contributo ulteriore da parte di tutti dei nostri ordini ovviamente dei collegi dei tecnici comunali dei funzionari della soprintendenza e di tutte le persone che operano nel campo della costruzione dell'architettura gli strumenti urbanistici mostrano lacune verso il progetto risulta complesso riuscire a contemplare correttamente trasformazioni tipologiche tecniche e tecnologiche componenti edilizie che si traducono in architettura le norme tecniche hanno vincolato enormemente il progetto lasciando margini molto limitati alla creatività e alla interpretazione del paesaggio i costi di trasformazione dei fabbricati e il costo di costruzione per i nuovi edifici sono aumentati di molto a causa di una normativa progressivamente sempre più complessa e articolata ecco le prospettive aperte sono quelle che ho ribadito a più riprese cioè che il progetto deve tornare al centro della riflessione e non viceversa e gli strumenti per consentire il progressivo ingresso di nuove tipologie che contentano l'impiego di materiali innovativi e l'ingresso della tecnologia che migliora il benessere delle persone non vi ho fatto vedere edifici pubblici è ovvio che anche gli edifici pubblici hanno caratteristiche diciamo problematiche che sono analoghe a quelle che vi ho illustrato in particolare per gli edifici privati e quindi la riflessione va condotta ovviamente a raggio molto più ampio grazie 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 grazie